Se uno mi viene in casa e viene con intenzioni che non è stato invitato da me e io gli do un cazzotto in bocca e gli butto giù tutti i denti, quando lui deve andare a fare la protesi è bene che se la paghi da solo, non che gliela debba pagare io perché ho dato un cazzotto in bocca, perché lui non era stato invitato in casa mia. Più giustizia e più tutela, più che altro questo. Bisogna che siamo un po' tutelati dalle forze dell'ordine, dallo Stato e da tutti quelli che ci governano. Parole chiare e poco fraintendibili quelle pronunciate da questo cittadino che ha appena firmato allo sportello unico del comune di Arezzo i moduli per avallare la proposta di legge ed iniziativa popolare sulla legittima difesa presentata dall'IDV, che però non darà luogo ad una consultazione referendaria, non ci sarà alcun referendum per capirsi, ma le firme servono a chiedere al governo che tale proposta diventi appunto legge, ovviamente senza alcun vincolo. Firmando si chiede in particolare la possibilità di aumentare le pene per chi viola il domicilio e negare il risarcimento delle eventuali lesioni causate al ladro o agli eredi in caso di morte del ladro stesso. Il numero di coloro che stanno firmando cresce di ora in ora. Nei pochi minuti in cui la nostra troupe è rimasta allo sportello unico del comune di Arezzo sono arrivate una decina di cittadini. In tutto circa 1.300 le firme già raccolte nel comune capoluogo si può firmare presso lo sportello unico del comune di Arezzo la segreteria generale e per i prossimi sabato, il 30 di aprile e il 7 di maggio, su iniziativa dell'associazione Ora Ghinelli si potrà firmare anche presso dei gazebo al mercato settimanale della zona Giotto. La gente si sente violata nella propria privacy, a volte non sono tanto i danni economici che possono essere apportati quanto il sentirsi violati. È infatti nell'articolo 2 della proposta di legge che si chiede di rivedere le norme che regolano l'eccesso colposo di legittima difesa. C'è l'eccesso di legittima difesa, bisogna vedere in quale contesto viene effettuato, perché a volte uno si può sentire in dovere di dare protezione o ai familiari oppure a qualsiasi proprietà di amici e quindi a quel punto lì bisogna un attimino rivedere il tutto. È una legge che va assolutamente rivista in un paese civile come il nostro, non può il cittadino essere mandato ad armarsi e farsi giustizia da solo. Come in tante altre cose le esigenze delle popolazioni cambiano, quindi anche le leggi si dovrebbero adattare alle mutate situazioni. In questo caso la percezione di peggioramento della sicurezza all'interno delle proprie abitazioni è chiaramente cambiata, un po' per l'effetto dei tempi, un po' perché è sempre più difficile controllare il territorio e quindi la sensibilità della popolazione a livello nazionale richiede un tentativo di inasprimento delle pene e di rafforzamento delle tutele dei cittadini.